Il gruppo ha migliorato dal punto di vista comunicativo, all'inizio era difficile parlare di tratta così tanta gente con un microfono, si impara, impariamo tutti e se ci fate caso il Beppe l'anno scorso ai palchi ci dava il microfono e noi eravamo un po' imprimoriti, si impara, si impara, nessuno più parla di inesperienza, fateci caso, oggi ci accusano di essere fascisti, diversori, stupratori, squadristi, ma non più inesperti, non più inesperti.